Adrian Mutu, attuale DT della Nazionale Rumena, ha seguito dal vivo Napoli Shakhtar Donetsk. Queste le dichiarazioni a radio CRC dell'ex di Juventus e Fiorentina. Ho visto un Napoli diverso nei due tempi di gioco, anche perché nel primo gli avversari si sono chiusi bene perché forse volevano il pareggio. Il Napoli ha insistito con le palle sopra la difesa, una strategia che appartiene al gioco di Sarri. Insigne. È stato gravissimo non farlo giocare con la Svezia. Ieri eravamo al San Paolo per seguire da vicino Kiriches, un paio di sere fa, eravamo a Roma per seguire Radu nel derby. Lui si sta trovando benissimo a Napoli, si allena sempre con professionalità, me lo hanno detto, anche Sarri e Giuntoli. L.A. Mia impressione è che il Napoli voglia trattenerlo? Lui deve solo risolvere questo problemino alla spalla, che ha accusato anche ieri. L'unico suo limite può essere nell'eccesso di confidenza. Con il mister, ho parlato molto volentieri. Lui è un maestro della tattica? A gennaio approfitterò della pausa del campionato per seguire da vicino i suoi allenamenti. A parte la gran giocata di Insigne, la squadra è sempre stata aggressiva e col baricentro alto. Anche contra, CT della Romania, NDR, ha parlato con Sarri, anche se adotta un modulo di gioco diverso.